Tre giorni di lodi mattutine per chiedere la grazia della pioggia. A Castiglion Fiorentino i fedeli rinnovano una tradizione che risale a tanti secoli fa e che appunto in momenti di difficoltà viene rinnovata. In questo caso appunto la difficoltà è proprio la siccità. Sono le 7.30 del mattino quando la Santa Messa inizia nella Chiesa del Gesù a Castiglion Fiorentino accanto alla collegiata. A celebrare il rito l'arciprete Monsignor Marcello Colcelli. In momenti di necessità il popolo di Castiglioni ha pregato davanti all'immagine del crocifisso che è un antico crocifisso degli inizi del Cinquecento. Un triduo di preghiera che affonda le sue tradizioni nei secoli. Sulle mura esterne della Chiesa c'è una lapide in marmo che ricorda come nel 1800 la stessa richiesta fu formulata dai fedeli e la pioggia al terzo giorno arrivò. Si sta pregando sì perché il Signore ci dia questo dono ecco di dare l'acqua e quindi di darci il nutrimento che ci è dovuto nel senso che Lui c'è da tutto quindi sicuramente non ci farà mancare niente. Ci salvi il Signore da tanti mali ma soprattutto ora non piove da tanto tempo anche la campagna e anche noi stessi siamo un po' disabilitati. Gesù ci ha sempre ascoltato, dicono i fedeli una volta, ci ha anche salvato dal passaggio dell'anzichenecchi. Sì, 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 è sempre ci ha ascoltato, speriamo anche questa volta.